Per quanto riguarda il progetto dell'autonomia che stiamo portando avanti con il Ministro Boccia è un progetto che offrirà un quadro sostenibile di autonomia sia dal punto di vista nazionale, della coesione nazionale e sia per quanto riguarda le legittime aspettative che a livello locale, territoriale e regionale si nutrono. Ma è un quadro che deve essere sostenibile per tutto il territorio nazionale, quindi è l'autonomia che noi andremo a offrire a tutte le regioni, anche del sud, del centro e quindi del resto dell'Italia. Ripeto, sono molto contento per questa visita e continueremo a dialogare con il Sindaco Sala, con la comunità milanese, come tutte le altre comunità anche del nord, oltre che del sud e del centro. Grazie, da questa parte, Sindaco, grazie.